Niente, protagonista ancora una volta a maggio, ci sono arrivati anche i gol, 4 in campionato, praticamente salvezza della squadra, una serata penso memorabile. Sì, è una bella emozione, tutto il gruppo ci ha messo quel contatto di più, sapevamo che la vittoria di oggi era importante, quindi ognuno ci ha messo del suo, il meglio che potesse mettere per raggiungere l'obiettivo. Senti, per te, insomma, 4 gol, nel primo annunci non sono pochi. Era una bella soddisfazione, potevamo farne qualcuno in più, però l'importante è che l'obiettivo di squadra e del collettivo si sia raggiunto. Senti, quante volte ti hanno buttato giù? Praticamente anche oggi tanti palli subiti, oltre le gol, comunque ricordiamo anche la punizione del secondo gol di Paroglie, l'ha resa tu? È abbastanza, diciamo che come noi studiamo gli avversari, tutta la loro divina difensiva, i centrocampisti e i movimenti dei attaccanti, giustamente anche gli altri studiano e cercano di trovare i punti deboli di ogni singolo della squadra. Quindi il tuo è mazzato per buttarti giù? Per ora sembra di giù. No, però questo è una cosa positiva, perché nonostante siamo arrivati alla 35esima partita, quindi alla fine gli avversari ti conoscono, però riesci sempre a essere pungente. Il merito è di tutta la squadra, non del singolo, quindi ogni compagno, come ho detto prima, dà una mano, fa una corsa in più, ci mette qualcosa in più per aiutare tutta la squadra.